Tutti i programmi di Agrilinea puoi vederli su www.agrilinea.tv www.agrilinea.tv Riprendiamo la linea da Predappio, noi l'abbiamo alle nostre spalle e devo dire che è bello visto anche dall'alto. Fra l'altro mi dicevano che ci sono una serie di incontri e convegni. Sì, in questi due giorni abbiamo organizzato una serie di incontri tematici sul San Giovese e sulla storia di Predappio. La storia di Predappio è importante per il Novecento soprattutto, ma anche la storia del San Giovese di Predappio. Abbiamo statuti che fin dal 1300 disciplinano la coltivazione della vite con punizioni molto severe che sgarrava. Quindi tenere insieme un evento del genere, Enovitis che per noi è un motivo di grande soddisfazione e di orgoglio, e far vedere la nostra città, il nostro territorio, la nostra storia, insomma, è un motivo di ringraziamenti. Noi ringraziamo lei per averci ospitato e l'azienda VTV Nicola Condecchi ci ha ospitato, ha ospitato le telecamere di Agrilinia. Poi tra poco saremo a fare le interviste direttamente in campo, o meglio nel viglietto, per vedere come funziona questa tecnologia. Torniamo a Giordano Zinzani anche perché vogliamo sapere se abbiamo dei progetti in corsa per il San Giovese di Romagna. Il San Giovese di Romagna per noi è il prodotto leader delle nostre denominazioni d'origine, occupa circa l'80% delle denominazioni d'origine della Romagna. Per questo vitigno, come per gli altri vitigni che rappresentiamo, nella vendemmia 2011 è entrato in vigore un nuovo disciplinare. Il nuovo disciplinare ha accorpato le vecchie denominazioni che erano Albano di Romagna, Trebbiano di Romagna, San Giovese di Romagna, Pagadebit, Cagnini, eccetera, in un'unica Romagna doc, una denominazione unica per tutto il territorio, che è un territorio lungo, la via Emilia che si estende dalle colline, diciamo, oltre Imola nel Bolognese, fino alla provincia di Rimini, nei confini con le Marche. Dicevo, abbiamo fatto una doc Romagna unica e abbiamo in questa doc traslato quello che era prima il San Giovese di Romagna, apportando alcune modifiche. Alcune modifiche che riguardano le rese, che sono state ulteriormente differenziate tra la tipologia normale e la tipologia superiore, ma la modifica più importante è aver creato le cosiddette sotto zone, l'indicazione delle dimensioni geografiche aggiuntive, ossia la possibilità per 12 territori di questa lunga collina di poter denominare in etichetta l'origine del prodotto. Per Dappio è uno di questi, come Bertinoro, e sono appunto 12 località che possono essere indicate in etichetta e quindi il produttore far risaltare le peculiarità del proprio territorio. Ecco, queste peculiarità, queste storie, noi abbiamo bisogno di raccontare anche dietro una bottiglia delle storie. Naturalmente ripassiamo la parla un attimo alla comunicazione. Noi, oltre alla qualità, questa bella qualità che ci ha ben descritto il sommelier, noi abbiamo bisogno di raccontare cosa succede e cosa c'è dietro una bottiglia. Specialmente gli stranieri vogliono delle storie. Noi basta che raccontiamo delle verità. Sì, cosiddetta è facilissima. Un po' poetico, filosofico, però bisogna raccontarlo un po' di storia. Quando noi portiamo un vino al tavolo, ci dicevano i nostri amici i sommelier e quando vanno a servirlo. Bisognerebbe forse, parlando di mercati nuovi, emergenti, nuovissimi come appunto la Cina e tutto l'Estremo Oriente, innanzitutto portare là il vino. Come, non siamo in grado di portare il vino in Cina? Eh sì. Sulla carta leggiamo molto spesso che arriviamo. Sulla carta siamo tra, adesso non vorrei deluderla, però siamo abbastanza indietro. Addirittura in fase di sorpasso da parte della Spagna su alcuni mercati. Però bisogna arrivare là, innanzitutto con grandi quantitativi di vino, in modo che sappiano della nostra presenza. Poi dopo si può fare tutto il discorso sul territorio. Il problema è che noi andiamo là parlando di qualcosa che è minuscolo per un cinese, che non ne sa nulla. Se tu voglio spiegare la sottozona, che può essere bellissima, quella di Bertinoro, il cinese ti guarda e ti dice... Chiuse Bertinoro? Esatto, quindi bisogna incominciare a parlare magari di Italia, poi a scendere, a scendere a imbuto e arrivare poi... Non a rovescio, partiamo dall'Italia. Abbiamo usato i fondi comunitari per fare il rovescio, quindi dovremmo fare nei prossimi cinque anni esattamente il contrario di quello che abbiamo fatto. E' preoccupante, ma è interessante che noi ci diciamo, la bandierina Italia, perché no, magari adesso l'Italia va bene, no? Sì, speriamo di iniziare gli europei, così magari... Ci aiuterà sicuramente, sfruttiamo anche questo, no? Esatto. Sfruttiamo i siti archeologici italiani, tutta la storia che abbiamo da raccontare. Secondo lei, lo straniero ha bisogno di storie, di qualità, un po' di tutto oppure solo di qualità? Ma io concordo con entrambi, perché è così. Il mondo, grazie a Dio, con 7 miliardi di persone, ha mille bisogni diversi e quindi occorre fare degli abbinamenti. Chiaramente fra un cavallo e una gallina non funziona, ma fra un cavallo e un cavallo funziona. Ed è proprio questo che deve essere la nostra capacità di scegliere. Io vi ricordo perfettamente che il giorno che raccontai una verità della signora Bianco, la quale a 72 anni mi indicò quel vigneto lo conosco benissimo quando è stato piantato, l'anno che sono nato, perché mio papà mi ha detto che quello è stato piantato quando sono nato io. Avevo parlato per mezz'ora con un signore inglese, uno dei più grandi buyer che ci sono, c'erano e ci sono tutt'ora sul mercato, e non aveva preso neanche una nota. Quando sentì queste quattro parole mi disse scusa, scusa Alfeo, mi vuoi ripetere per favore questa cosa qui? E da lì in poi dice, ma possiamo anche visitare la signora Bianco? Potete anche visitare la signora Bianco. La signora Bianco è stata visitata nel frattempo da sei inglesi in visita, non sono sei mila, sei, ma sono parte di un club di parecchie migliaia. Allora questo è un esempio, giustamente è un cinese di tutta questa storia, lui non sa che cosa farne. L'altra settimana uno dei più grandi operatori di quel ambito ho presentato un'azienda di cui mi occupo qui in Romagna, ha una potenzialità intorno agli 8 milioni di bottiglie. Ma è veramente molto bella, ma sai che non è mica poi così grande come dicevi? Aspetta un attimo, vieni su in quell'altra in Piemonte che ne fa 35 dei milioni di bottiglie. Tornate in idea, il giorno d'altro, questa è la misura che mi va bene. Allora è chiaro che gli abbinamenti vanno fatti in maniera coerente. Ci sono dei mercati che hanno bisogno di un riferimento al territorio, alle persone che hanno scritto la storia di quel territorio, di conoscere perché i vigneti sono fatti così, come originano il prodotto, come glielo trasformiamo. Se li chiamiamo e riusciamo a farglielo vinificare con le loro mani, anche a staccarselo tra grappoli, saranno felicissimi di comprare quelle bottiglie. Ma è un meccanismo chiaramente che è completamente diverso da quell'altro. Eppure entrambi in questo mondo devono convivere. Bene, noi vediamo che nei diversi territori italiani molto spesso succede che il vino del territorio è un po' considerato poco, meglio, viene sfruttato poco. Mondini, lei che in questo territorio lo vive, fra l'altro vi stiamo parlando dell'Emilia Romagna, da Predappio, ma noi abbiamo anche il mare a pochi chilometri. E molto spesso ci dicono che questi produttori straordinari su queste colline vicinissime al mare fanno fatica a collocare questo Sangiovese d'eccezione. Spesso non si è profeta in patria, come si dice. Giustamente, come diceva il signor Martini prima, noi oggi, insommelier, mi ricollego alla professione, non è più solo quello che magari abbiamo visto stappare o servire un vino. È un comunicatore del vino, deve conoscere un approfondimento di quelle che sono le realtà del turismo enogastronomico, che oggi credo sia il vero valore aggiunto che possa trainare sia le nostre riviere sia anche i nostri operatori della collina e soprattutto i vitivinicoli. Così come sui mercati internazionali, sì, è chiaro, il nostro territorio, potremmo parlare del nostro Sangiovese, ma dovremmo anche andare a vedere dei nuovi orizzonti di abbinamento. Noi potremmo andare a proporre un cinese la tagliatella ragù binata a Sangiovese. Lui la mangerà sì e no quando verrà qua una volta. Quindi dovremmo cercare anche di trasmettere degli abbinamenti, delle possibilità di abbinare questi vini alle loro culture, alle loro gastronomie, alle loro cucine. E non è una cosa facile, però sicuramente credo sia la strada più importante da percorrere per il futuro. Bene, torniamo nel vigneto, alziamo di nuovo le telecamere al cielo, andiamo verso Enovitis, vediamo le macchine al lavoro. Giovanni Billi, la commerciale agricola, lei se ne intende di meccanizzazione, però molte cantine non amano ricordare che il vigneto, o meglio l'uva, è raccolta con la macchina. Siamo sicuri che attraverso questa tecnologia portiamo un'uva di qualità? Poi lo chiediamo all'enologo. Anzi, farei la cosa inversa. Partiamo dall'enologo, poi arriviamo a lei. Le dispiace? Ecco, secondo lei la raccolta meccanica? Ma la raccolta meccanica ha vantaggi sicuramente sia economici, tecnici. Noi, ad esempio, alla Condera accogliamo rigorosamente a mano l'uva. Dopo dipende tutto qual è il prodotto che si deve fare. Un po' il discorso che faceva in ambito commerciale del signor Martini, io lo faccio dal punto di vista tecnico. Noi qui produciamo rese molto basse per ogni ettaro, quindi viene prodotta pochissima uva. Di conseguenza, noi stiamo cercando di produrre un'eccellenza e quindi è per noi importante conservare l'uva intatta fino al momento in cui entra nel vinificatore. Nonostante comunque negli ultimi anni la tecnologia delle vendemmiatrici abbia fatto notevoli passi avanti anche in questo senso, però ovviamente ha dei limiti dal punto di vista della qualità dell'uva, mentre ha grandissimi vantaggi dal punto di vista della gestione del lavoro della vendemmia, quindi della velocizzazione, della riduzione della mano d'opera. Bene, allora io direi, Giovanni Villi, che dobbiamo convincerlo, questo enologo, a mettere la macchina nel vignetto anche perché noi vi assicuro con la vostra vendemmiatrice automatico, quella della New Holland, abbiamo visto un chicco intatto, o vi sbaglio? Non erano pure, questa è pura verità. Ma qui sono tutte persone che non hanno bisogno che io li convinca perché sono degli esperti e sanno cosa vogliono e dove vogliono arrivare. Però con te raccoglie mano. Esatto, l'unica cosa che posso dire ed affermare è che oggi la vendemmiatrice raccoglie solo il vero chicco buono, non raccoglie il chicco che è marcito, non raccoglie il chicco che è... con la cosiddetta muffa e a mio avviso abbiamo raggiunto dei livelli di perfezione che raccogliamo solo e esclusivamente il granello, come dici tu, non rovinato, il granello bene, quasi che sembra che uno con due dita vada e lo stacchi. Poi il fatto di chi deve vinificare o meno sono loro che devono sapere cosa si deve fare. Noi come venditore di macchine mettiamo tutta la nostra disponibilità al loro servizio, sia per prove o confronti, perché il cosiddetto dire le chiacchiere sono tutte belle ma poi sono i fatti quelli che contano come oggi ho sentito da tante persone che possiamo stare qui a parlare una settimana ma quello che conto sono i fatti, sono gli abbinamenti, sono le collaborazioni per poter essere più potenti in ogni settore di cui noi rappresentiamo o facciamo. A De Novitis abbiamo delle macchine, provi a raccontarceli, le stiamo vedendo, allora abbiamo... Ma qui a De Novitis abbiamo la fortuna di avere tutto quello che è per il vigneto, abbiamo tutti i trattori predisposti, cabine, non cabine, cingolati, non cingolati, abbiamo tutte le attrezzature che oggi sono il vigneto, ossia quelle perché ognuno ha la sua tendenza di lavorazione, qua abbiamo la possibilità di vedere al lavoro tutte le macchine di ogni genere e di ogni convinzione, che uno si può rendere conto sul campo, che cosa fa una macchina, come lascia il terreno e come opera. Qui come New Holland abbiamo tutta la gamma delle macchine da frutteto, compreso la vendemiatrice, non all'opera, abbiamo le potatrici, abbiamo... Meccaniche? Abbiamo di tutto, è possibile vedere tutto. La potatrice meccanica è uno strumento utilissimo che noi utilizziamo, quindi una cosa è diciamo la vendemmia, una cosa sono le altre operazioni della vigna che invece noi meccanizziamo, ma anzi, ci permettono di tenere così come sono tenuti così tanti vigneti, altrimenti sarebbe difficilissimo fare a mano, riuscire a tenere in questo modo il vigneto. Premetto anche, se posso, un grutto solo, che qua nell'azienda Condè stiamo sperimentando anche un cingolato con una cingolatura di gomma per i frutteti e vigneto e oggi si può notare anche quello che gentilmente l'azienda Condè che stiamo sperimentando queste macchine l'hanno messo a disposizione, che credo che sia un futuro che specialmente in colline, in montagna, avere una macchina cingolata, gommata, che possa essere più vantaggiosa rispetto a un cingolo tradizionale. In vigna si chiede anche più di essere più rispettosi per l'ambiente, quindi anche la chimica si sta in qualche modo trasformando? naturalmente sia per forza propria perché naturalmente i consumatori sono sempre più attenti alla salubilità del prodotto, di tutti i prodotti in generale e sia anche perché stanno entrando in vigore un paio di direttivi europee appunto sull'adeguamento sia delle sostanze attive sia dei macchinari che li utilizzano, quindi salute dell'operatore deriva dispersione al suolo. L'Unione Italiana Vini a questo proposito è impegnata su questo fronte attraverso un progetto di sostenibilità chiamato Tergeo nel quale vengono messe a fattore comune le competenze sia degli operatori quindi produttori di tecnologie e di macchinari sia le competenze del reparto dell'università del reparto scientifico dell'università quindi centri di ricerca che spesse volte rimangono confinati nei loro stanzette e producono tanta carta che poi non arriva alle aziende e dall'altra parte appunto le aziende vinicole che mettono sul piatto le loro esigenze e che quindi testano la bontà degli applicativi proposti quindi si è creato questo tavolo diciamo così permanente di sperimentazione di confronto per arrivare a un prodotto sempre più sostenibile non solo dal punto di vista ambientale che è già importante ma sostenibile anche per le aziende perché sostenibilità non dimentichiamo in economia vuol dire che un'impresa sta in piedi in maniera duratura e autonoma e questo è il discorso che facciamo prima a proposito di Ocm Tergeo anche Magis mi sembra sono due progetti interessanti nei vigneti Sì, sono due progetti italiani molto interessanti all'avanguardia anche rispetto ad altre nazioni che ci circondano nel Mediterraneo questo obiettivo appunto di razionalizzare le operazioni con un'ottica ambientale un'ottica di sostenibilità interessantissimo faccio parte faccio parte del comitato tecnico di Tergeo è un gruppo di lavoro che sta sviluppando appunto con il cedito del dottor Famini grazie ai professori universitari che sono usciti dalle loro facoltà e si confondono con le aziende anche le aziende si confrontano non solo le università no, si confrontano molto spesso un monto dei produttori di beni gli utilizzatori che sono le aziende vitivinicole e gli universitari quindi di dialogare con lo stesso linguaggio molto spesso le aziende hanno difficoltà a dare dei numeri o far vedere quello che fanno i campani o nel vigneto qualche riservatezza c'è ma c'è sempre più appunto una corsa verso la naturalità e dunque una riduzione dei residui di pesticidi al di là di quelle che sono le direttive proprio per poter vendere spendere questo elemento di qualità in ogni tipo di mercato non c'è un mercato che rifiuti o che non abbia interesse che abbia disinteresse a questo argomento tutti in maniera più o meno alta hanno un interesse reale concreto del quale noi dobbiamo prendere atto dobbiamo suggestionarlo con le nostre proposte innovative e dobbiamo sostenerlo in questo cammino bene Mondini concludendo noi abbiamo siamo in Emilia Romagna a Predappio esattamente dell'azienda Vitiviricola Condè noi vogliamo ricordare ai giovani ai meno giovani coloro che vogliono capirne di più quando sorseggiano bevono o abbinano un vino diamo delle indicazioni indicazioni sono tanti eventi tante manifestazioni noi facciamo i nostri corsi corsi di formazione al di là di quella che è poi la figura professionale sommelier che magari può anche spaventare dico partecipate ai corsi perché è un modo di educare al buon bere al bere di qualità al bere moderato perché ovviamente questo oggi è fondamentale importante all'apprezzare il vino all'apprezzare l'abbinamento a capirne tanti aspetti che ovviamente andiamo a curare nell'ambito dei nostri tre livelli di formazione prima di ascoltare Castellucci vorrei una battuta finale internet aiuta a vendere il vino aiuta a comunicare che il vino è pronto per essere consumato vende ancora poco ma sicuramente è una strada che è uno sviluppo positivo costante progressivo credo ancora molto alla presenza dell'uomo come mentore della qualità del prodotto che si va a proporre e come veicolante proprio di tutto un processo che non è soltanto una scatola di pomodori su uno scaffale ma che è molto di più quello che diceva Francesco Condello questa mattina credo che sia tutto dentro in quel quadro che rappresenta la comunicazione che il venditore ogni istante fa verso il consumatore bene noi concludiamo queste immagini da Enovitis Francesco dove è? Francesco magari per i saluti finalici noi la ringraziamo prego prego anche se impattiamo le nostre telecamere che gentilmente Martiri le concede prego prego allora concludiamo noi la ringraziamo per questa ospitalità naturalmente occhio a Condè perché sarà presente spero nei ristoranti della riviera romagnola sì siamo presenti in 150 ristoranti scegliamo la ristorazione di qualità inevitabilmente o meglio la ristorazione sceglie voi sì a vicenda è un matrimonio io colgo l'occasione per invitare la ristorazione della riviera romagnola a consumare molto più vino non solo dell'azienda Condè ma di tutte le aziende collinari che in questo momento hanno prodotti veramente di qualità però che non trovano spazio al di fuori diciamo della Romagna stessa ed è un'occasione unica alla Romagna i tre mesi estivi per poter promuovere il proprio prodotto e i ristoratori hanno questo tipo di responsabilità cioè non devono vergognarsi di promuovere vini solo ed esclusivamente della Romagna anche perché quando noi andiamo nelle altre regioni nelle altre regioni dove diciamo possono avere una costa come può essere la Toscana come può essere la Sicilia loro vendono solo ed esclusivamente promuovono solo ed esclusivamente i loro vini la Romagna dovrebbe fare altrettanto bene quindi premiamo il vino i vini del territorio noi ringraziamo tutti i nostri ospiti che sono stati con noi al sole in occasione di questo Enovitis e a proposito i borghi sappiamo che c'è un progetto brevemente concludendo con te ha pensato anche di rimettere in piede i borghi che erano presenti su questo territorio cos'è è una fantasia oppure si trasformerà in realtà prossimamente No noi finita la manifestazione di Enovitis noi inizieremo i lavori i lavori della realizzazione di una nuova cantina e la realizzazione della nostra sede e di un resort abbinato a tutte queste diciamo è una serie di servizi che noi concentriamo all'interno dell'azienda e che per certi versi architettonicamente ricorda un vecchio borgo perché il profilo di questo borgo che andremo a creare viene rappresentato da tre torri una torre con un orologio una torre con un campanile e un'altra torre simbolica che è la torre diciamo di predappio di predappio alta queste tre torri per certi versi rievocano una struttura architettonica di un vecchio borgo ed è anche giusto avere un po' di rispetto per l'impatto ambientale quando si è circondati da una vegetazione così ampia come la nostra bene con questo bel territorio queste belle immagini da Enovitis da predappio dall'azienda vinicola con Dea è tutto noi rilanciamo la linea dello studio naturalmente vigna e vino territorio continua il suo percorso in tutte le regioni italiane noi concludiamo con l'intervista che abbiamo realizzato a Vinitaly con Castellucci presidente dell'OIV grazie per essere stati con noi fino a quest'ora ci piace vedere ancora un settore in grande vita una vita splendida quella del vino cosa che purtroppo negli altri settori agricoli non succede ci piace l'Italia sicuramente quest'anno ha fatto una gran performance considerando anche il momento molto pesante da un punto di vista economico l'Italia conferma un aumento delle esportazioni in generale e quello che è positivo è che di fronte a un aumento sensibile delle esportazioni vinicole la quota dello sfuso non cresce il che vuol dire che l'Italia essenzialmente cresce nell'imbottigliato che poi il prodotto che dà un maggior valore ha aggiunto anche ai produttori noi in Sudafrica 4-5 anni fa parliamo proprio di questo parliamo di questo direi che in effetti finalmente possiamo usare i soldi anche della riforma comunitaria per promuovere il vino italiano anche fuori dell'Unione Europea invece che bruciare dei fondi per fare delle distillazioni da carburazione che non servivano a nessuno quindi usiamo i soldi del vino buono per promuovere il vino buono mi sembra che vada bene sia i produttori che i consumatori che hanno quindi molto più vino buono da bere diritti di impianto qui casca l'asino la posizione dell'Organizzazione Internazionale della vita del vino ovviamente è neutrale perché noi siamo 24 stati extracomunitari e 21 comunitari è vero però che una volta che abbiamo estirpato 180.000 ettari di vigneto in Europa con aiuti e altri 80.000 volontari è un po' strano adesso cominciare a ripiantarli senza una regola quindi le regole servono anche perché il mercato deve essere non deve essere una visione dirigista ma va disciplinato per aiutare una continuazione di qualità di difesa del territorio e anche per i consumatori perché abbiano un prodotto di cui hanno una chiara concezione di da dove viene e come viene fatto per quanto riguarda invece i dati abbiamo visto che il Brasile ha ancora il 200% sul prodotto che importa non si può fare niente su questi fronti difficili per l'export per me come organizzazione è una questione di organizzazione mondiale del commercio e non della vigna e del vino certo posso sardare no posso capire la frustrazione è vero anche che in questi stati dove hanno un'industria ancora un po' debole con dei vicini molto vivaci come Argentina e Cile cerchino un attimo di fare in modo di fare partire decollare anche la loro industria e poi sono gran parte dei veneti che stanno a Rio Grande del Sul quindi può essere anche già che siamo a Verona può essere un discorso tra veneti da una parte e all'altra dell'Atlantico quindi in qualche modo potremmo fare degli accordi penso che gente di buonsenso gente legata alla terra e al vigneto un accordo bisognerebbe trovarlo un messaggio ai viticoltori italiani lei li rappresenta diciamo lei italiano ma soprattutto a coloro in qualche modo lavorano nel vino da anni su questi territori difficili io trovo che siccome l'Italia ha molto aumentato il suo volume di export bisogna mettere un piede gentile di acceleratore sul valore dell'export anche perché il rapporto qualità-prezzo di tutte le varie categorie di vino italiano è eccellente quindi possiamo anche convincere il consumatore estero di pagare qualcosina in più per avere la qualità italiana di vino Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti